Gli undici partecipanti vanno ad allinearsi dietro le ali del mezzo meccanico macchina in movimento ottimo l'allineamento con la prima fila tutta bene a rete si entra qui davanti alle tribune per il lancio e come da previsione il numero 3 di Aura del Ronco galoppa Great King si rimette al volo rientra Aura del Ronco a Umbra LJ quindi vediamo Great King che litiga un po' con il numero 6 di Ulberto che alla fine si ritrae c'è spazio per Great King per venire alla destra di Aura del Ronco e passare al comando è stato bravo Antonio Vitiello che dopo 400 metri ha dovuto un po' guidare il suo allievo e passa al comando seconda posizione Aura del Ronco in terza Ambra LJ per linee esterne cala il 6 di Ulberto Antonio Vitiello con il suo Great King giunge qui davanti alle tribune ora cerca un po' di decelerare in seconda posizione Aura del Ronco in terzo Ambra LJ vediamo in quarta Argentina Getta mentre avanza per linee esterne il 7 di Zigurat Griff ma litiga un po' con Ulberto e fatica a passarlo e mentre davanti il leader si guarda da Aura del Ronco Ambra LJ viene via a palo lontano Ambra LJ ha lasciato una corda preziosa per farsi bucare da Iaccarino con Adone D'Alvio ora si va di dentro con Great King Wine che controlla Aura del Ronco quindi Adone D'Alvia che buco completamente Ambra LJ sul finire dell'ultima curva Great King Wine prende due di margine nei confronti di Aura del Ronco e il buon Paolo Donadio in retta d'arrivo Antonio Vitiello se ne va se ne va e c'è lotta solo per la terza moneta perché per linea interna il numero 11 di Adone D'Alvio buca gli altri vediamo che Antonio Vitiello un bacio al cielo per ricordare la scomparsa improvvisa del nostro caro amico Giovanni Musico che ci ha lasciato e il cuore buono di Antonio non si smentisce mai ed è giusto che vince con il favorito e lascia una dedica al nostro caro amico Giovanni Musico per il secondo abbiamo visto una buona guidata di Aura del Ronco con Paolo Donadio che fa sua la seconda moneta sin dalle prime battute e terzo Adone D'Alvio con Salvatore Mineo è tutto per la quinta corsa linea alla regia di Aura